E' il quinto match point, quello decisivo, Eugeni Bouchard dunque finisce per avere la meglio, il rimonta di Mona Bartel, quanta fatica, 4-6, 6-3, 6-4. Servizio, provando la botta al centro. Se ne va la risposta di Ellison Risk, in qualche modo respinge il tentativo della statunitense di rifarsi sotto. Si impone Eugeni Bouchard, questa è la gioia del suo clan per la terza volta. Batte Ellison Risk con il punteggio di 6-2, 6-3 ed accede ai quarti di finale del VTA Premier 5 di VU. E' sbaglia il dritto lungolinea Lisset con l'esultanza di Eugenia Bouchard che per la sesta volta quest'anno raggiunge almeno una semifinale, lo fa per la prima volta dal torneo di Wimbledon. Piuttosto cordiale. La stretta di mano tra le due si impone per la seconda volta in carriera ai danni di Alizet Cornet con il punteggio di 6-3, 7-5. Sbaglia il rovescio e c'è la vittoria, c'è il ritorno in finale di Eugenia Bouchard, la terza finale stagionale. Dopo Norimberga, soprattutto dopo Wimbledon, raggiunge la finale anche a Wuhan. La vittoria netta ai danni di Karim Wozniacki con il punteggio di 6-2, 6-3. Se ne va la risposta di rovescio di Eugenia Bouchard, il terzo titolo in carriera. Una Petra Quitova straordinaria, vince il quattordicesimo titolo. Una Quitova che contro la Bouchard gioca un tennis come al solito meraviglioso. Terza vittoria su tre, 6-3, 6-4, Eugenia Bouchard. Sbaglia su tre, 6-4, Eugenia Bouchard, la terza finale di Eugenia Bouchard, la terza finale di Eugenia Bouchard. Sbaglia su tre, 6-3, 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 Eugenia Bouchard. Grazie a tutti, grazie a tutti. So, all in all, a very good performance, especially in an important moment for me. You had that backhand winner. What was going through your mind at that point when you knew you had won? Happiness and relief at the same time. Both, a mix of both. How long are you going to celebrate this tour? Not at all. I have a flight in a few hours. Actually, the funny thing is, every single time I've won a tournament, it's because I had a flight in a few hours after. Amiles, it seems like you feel you've reached a new height in your career. What is your ultimate goal? Ultimate? Become the best player in the world. And there it is. She was shaken but never stirred. An impressive performance by Eugenie Bouchard in straight sets over Virginie Rosano of France. 6-2-7-6. 6-2-7-6. 6-2-7-6. 6-2-7-6. Seven-2-7-6. 7-1. 7-2-7. 8-3. 9-3. 9-3. 10-4-7. 9-4. 10-4. 10-4. 10-4. 10-5. 10-5. 11. 10-6. 10-5. 11-6. 11-6. 11. Grazie a tutti. A new star has arrived in the women's game. Her name is Eugenie Bouchard. She's 19 years of age. She's from Canada and she's into a major semifinal. A crowd stands to acknowledge a supreme performance. A crowd stands to acknowledge a supreme performance. Milos Ranic against Roger Federer. Milos Ranic against Roger Federer. Milos Ranic against Roger Federer. Grazie a tutti 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 Grazie a tutti